Ha qualcosa in comune con l'attaccante Leandro Campagna, l'altro arrivo del mercato invernale del Barletta. Non il ruolo Alessio Innocenti è un centrocampista, non l'età, lui è del 93 Campagna del 94, ma la voglia di rimettersi in gioco e ritagliarsi uno spazio importante con la maglia bianco-rossa. Arriva dal Milan, il Barletta lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto della metà del cartellino. Giunge nella città della disfida con un anno di ritardo come ha lui stesso ammesso nella conferenza stampa di presentazione. Già il Barletta mi cercava la passata stagione, però non si sono trovati gli accordi tra le due società. Il Milan, che è il mio detentore del cartellino, è il Barletta e quindi è stato rimandato un anno dopo, quindi vuol dire che era destino. Hai scelto Barletta per quale motivo? Perché so che è una bella realtà, me l'hanno parlato molto bene della società, del presidente e dei tifosi soprattutto. Volevo calarmi in questa realtà perché ho voglia di fare del mio meglio per portare su questa squadra. Ha giocato una volta nello scorso campionato di Serie B alla Pro Vercelli e ha giocato una sola volta anche in questa stagione al Sud Tirol prima divisione a girone A. Ho avuto qualche infortunio che mi ha condizionato un po' il mio andare della carriera e ultimamente sono stato bene, ma bisognava chiedere all'allenatore. Io ho dato sempre il massimo, ma non ne rientravo nei piani dell'allenatore, quindi va bene così, ora pensiamo al presente. Ha voglia di giocare, insomma, Alessio Innocenti, di diventare un punto fermo del centrocampo del Barletta. Mi piace mixare le due fasi, quella difensiva e quella offensiva e posso giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Ha le idee chiare anche sugli obiettivi da raggiungere. Secondo me possiamo pensare a risalire bene la classifica, che è già un obiettivo importante e chissà, il play-off non si stanno mai. Ha nominato il play-off Alessio Innocenti, forse sbagliando, anzi sicuramente sbagliando. Non ha senso nominarli in questo momento anche dopo una serie positiva, sono troppo distanti e poi nominarli non porta bene. Innocenti non lo sa, è appena arrivato. Intanto lui si candida già per la prossima gara. Pronto per Salerno? Sì, sì, prontissimo.